Ciao a tutti ragazzi, oggi su mia richiesta andiamo ad analizzare le partite del primo torneo che io sappia di Lorenz, fatte al campionato provinciale. Quindi il ragazzo da esordiente va a fare il suo primo torneo, un campionato assoluto, vediamo come è andata. Anticipo che io ho chiesto specificatamente per evitare di infietire, di non volere sapere i nomi degli avversari, quindi questa prima partita sarà avversario 1 contro Lorenz, vediamo un po', eccoci qua, primo turno, avversario 1 contro Lorenz, Lorenz al nero, quindi D4, D5 con F3 con F6, E3, E6, vabbè qua ci serve da parlare su tante avverture, io non conosco il suo repertorio, quindi non so dove andare a parare, di sicuro queste sono mosse perfettamente teoriche, F3, C5, va benissimo, va più che bene, B3, mmm, mmm, bah, non è certamente sbagliata ma non mi piace granché, innebolisce inutilmente le case scure, non mi piace, comunque, cavolo C6 va benissimo, Arrocco è un po' senza senso, dà quasi l'impressione che il bianco abbia voluto fare B3 per impedire il C4 del nero, non per fare alfiere B2, è sempre più strano. Alfiere 7, non è sbagliata, qua ci sono delle piccole particolarità della posizione, diciamo che io avrei preferito cambiare in D4 per darmi la possibilità a me stesso di poter mettere l'alfiere in B4 o in D6 o evitare che adesso, ad esempio, il bianco potrebbe catturare il C5 e farmi muovere di nuovo l'alfiere. Io avrei voluto mangiare in D4 per fissargli un pedone sul casa scura e lasciare per sempre debola la casa C3, ma sono inezze, eh, ricordiamoci sempre che Lorenz è un esordiente, anzi, finessa ha trattato l'apertura magnificamente. Fere B2, arrocca, vale B2, non a C7. Non è sbagliata. Diciamo che avrebbe senso se lui quanto meno, quanto prima vuole cambiare in D4 per prendere subito la colonna, allora a questo punto forse era meglio cambiare in D4, però subito la presa, guadagniamo un pedone centrale, lui prendeva di cavallo e poi forse avremmo fatto da una C7 dopo una prima A6, vediamo. A3, mossa per me con pochissimo senso, A6, mossa ancora con meno senso, avrebbe avuto più senso, scusate la ripetizione di parole, fare adesso B6 con l'idea alfiere B7 e entrare in un setup abbastanza conosciuto in cui il nero si raggioca con i pedoni sospesi, ma c'è un ottimo gioco di pezzi. Pedoni sospesi perché si creeranno da un'eventuale presa del bianco in C5, prima o poi forzata, a quel punto spinta in C4 del bianco, cambio pure in D5 e si giocherà con i pedoni sospesi. A6 non mi piace, ha poco senso, l'idea stessa di fare B5 secondo me ha poco senso in questa posizione, la casa C4 è già controllata, non ha senso andarla a ipercontrollare. Donne 2, con l'idea di spingere in E4, c'è poco altro, B5 almeno è coerente, C4 mi sembra una buona mossa a questo punto per il bianco, presa presa, torre B8 va bene, anche se lascia in difesa il pedone A6, sì, non è che c'era niente di meglio. Alfiere C3 non mi piace proprio, era meglio metterci una torre in B1 a difendere quell'alfiere senza perdere tempi. Torre E8, questa è la prima mera mossa che io avrei avuto probabilmente sbagliata, una mossa senza senso, non capisco il motivo visto che il nero non spingerà mai nei 5, ma che serve torre 8, con l'idea di fare alfiere F8, non ha senso, non ci si può permettere di sprecare tempi in questa posizione, avrebbe avuto molto più senso fare una mossa tipo cavallo A5 oppure A5. Lui prende, a questo punto fa un favore al nero perché dà un perché alla torre 8, giustamente lo dipende di pedone, presa, presa, cambio, va bene, donna E3, C4 va pure bene, presa, 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 sì, va bene, c'è poco a dire, alfiere D6, H3 e donna E7, potrebbe seguire un cavallo E4, presa, donna per E4, presa, presa, col pedone D5 un po' arretrato, diciamo che la posizione è quanto meno pari, e se è veramente il primo turno per un ragazzo che non ha mai giocato un torneo, mi pare un ottimo risultato, ha giocato veramente bene, veramente bene, tra le torre 8 che non mi è piaciuta, però ha giocato veramente bene. Andiamo alla prossima. Seconda partita, Lorenz contro l'avversario 2, ricordo sempre il campionato provinciale di Siracusa 2018. A4, E5, F3, C6, alfiere B5, io, ma manco a dirlo, sconsiglio totalmente a qualunque esordiente o fino alla seconda prima di giocare la spagnola, ma ognuno è libero di essere masochista quanto vuole, F3, C5, molto interessante, C3, la migliore, D6, presa, presa, scacco, perfetto, alfiere D7, non mi piace proprio, molto meglio l'immediata A6, a questo punto, arrocco, ottima, cavolo F6, non mi piace granché. A questo punto, si poteva giocare subito E5, presa, presa, e mo, cavallo dove va? Se torna in G8? Eh, che si può fare a questo punto? Cavallo G5, con l'idea di donna H5, o addirittura donna B3. Cavallo H6, quasi forzata, E6, mi sembra che la presa sia quasi forzata pure, F per E, donna H5, su G6, donna per H6, manca a dirlo, su Re7, su Re7 che si può giocare. C'è cavallo per E6, con la minaccia di alfiere G5, Re per E6, manca a dirlo, sarebbe una porcata cattica, vabbè, Re F8, e a questo punto alfiere C4, torre 1, con immane vantaggio! Sì, 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 cavallo F6 a questo punto è una cosa orribile, perché G5 vince subito. Lorenz, non lo so, non l'ha vista, non ha avuto il coraggio, ha fatto una mossa di sviluppo pezzi, va bene, va benissimo. Il nero prosegue con H6. E qua, la semplice presa non dà un bel vantaggio. Mettiamo che prende, se lui prende di donna, che è una cosa più semplice, cavallo D5, poi alfiere per C6 e cavallo per B4, vince un pezzo, quindi su alfiere per F6 deve riprendere di pedone, e di nuovo cavallo D5 con grande vantaggio. E sì, qua la presa subito avrebbe già vinto la partita, invece lui ha preferito fare alfiere H4, un po' spaventato, e va Rocco, e un'altra mezza porcata, c'è di nuovo alfiere per F6, è sempre rai il discorso, ma entrambi non l'hanno vista, lui fa cavallo D5, a questo punto G5 è forzata, e qua cavallo per G5, adesso bella mossa aggressiva, qua il nero dovrebbe prendere D5, così a occhio, cavallo per D5, cavallo F3, con un leggero vantaggio del bianco, invece il nero cosa fa? Cavallo per E4, no, no, presa, 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 no, la partita è finita, la partita è finita, che cosa è questa cosa? Andiamo velocemente come è andata, perché veramente non posso resistere, altrimenti, mamma mia, qua forse era meglio fare subito G3, tagliava la testa al toro come suol dire, vabbè, D5, questo continua a giocare con un pezzo in meno, nella partita seria, di nuovo un G3, io l'avrei fatta per sé e per no, queste sono mosse che non voglio vedere, allora ragazzi, non mi usate una torre per difendere un fedente pedone con un pezzo di vantaggio, non voglio vedere queste cose, orribile, vabbè, con questa chiudiamo, che da dire, ti è mancato un po' di coraggio Lorenz, è giocato di nuovo bene, ti è mancato un po' di coraggio, l'avversario è un water, eppure di scarsa qualità, non dico altro, eccoci qua, terza partita, Lorenz contro l'avversario 3, andiamo un po', E4, E5, l'F3, D6, la bella Fidor, D4, presa, presa, G6 subito, questa è una variante che a Catania aveva introdotto il forte maestro Fide Fabiano, è una specie di, di dragone, giocato senza la spinta C5 immediata nel nero, con cui la variante migliore è la classico attacco jugoslavo che fa il bianco contro il dragone, motivo per cui su G6 la semplice cavallo C3 è la cosa migliore da fare, Lorenz invece fa subito alfiere 3 che non mi piace, vediamo cosa vuole fare, G7, C4, Nines, cioè qua lui vorrebbe impostare un sistema Maroski contro un dragone, in cui il nero non ha fatto ancora C5 però, c'è una bella differenza, però è un sistema molto lento, non so se potrà andare bene, vediamo un po', arrocco alfiere 2, fin qua torre 8, no, 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 non posso vedere queste cose, che cosa è un alfiere che diventa un pedone, no, 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 manca a dirlo, la mossa giusta era F3, F3 ed è un classico sistema Maroski contro un dragone senza C5, comunque, si gioca F3, questa alfiere F3 è una porcata immane, immane, orrore e depravazione, orrore, cavallo D7, arrocco, cavallo C5, sempre verso E4, donna C2, certo, gli effetti dell'orribile mossa di prima, di non aver giocato F3, la donna se ne va in una posizione che non mi piace, cioè qua il nero semplicemente già ha tre pezzi di attacco del pedone E4 e il bianco deve stare a difendersi, ma ditemi voi se è una cosa normale, cavallo G4, ma io qua forse avrei pure evitato, avrei fatto altre mosse, diciamo, tipo A5 per evitare B4 del bianco, comunque, leva la coppia di alfiere, leva quell'orribile alfiere messo in F3, fa quasi un favore, F3 finalmente, F7, torre DA in D1, va bene, F5, va, non mi convince, qua il nero secondo me ha perso un po' la pazienza, va bene un attacco sul pedone E4, però, va, comunque, B4, buona mossa, cavallo A6, ma io adesso qua non capisco la cosa più semplice del mondo, cioè giocare A3, e quel cavallo fa schifo, che cosa fa? Mettiamo che faccia C5, la semplice cavallo di B5, e la partita si chiude, arrivederci, grazie, stretta di mano, e si va tutti a casa. Allora cosa poteva fare? Poteva fare C6 per dare una casa di fuga al cavallo, perché, chiaramente, qua è un pezzo che non gioca, alfiere F4, attacca il punto debole, chiamo Donna F6, che non è una cosa bella, però, e qua, che si può fare? Non lo so, cavallo D2, in ogni caso ci sono delle debolezze strutturali da parte del nero, comunque diventa una partita dinamica. Di certo la semplice A3 avrebbe sistemato tutto quanto, invece cavallo A6, lui gioca Donna D2. Sì, rientra nella posizione tipica della batteria Donna Alfiere dell'attacco di uno slavo, però, cioè, dà un pedone, senza perché. Lui quello se lo prende. dà un pedone senza perché. Ma almeno mangia l'F5 adesso. Mangia l'F5 e gli sbagli l'arrocco. Nianca, alfiere G5, qua mi sa, no, no, che cos'è questa cosa? No, gli ha messo un pezzo sotto così. No. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vabbè, Lorenz. Vabbè, questa partita si è andata completamente. Vabbè. Vediamo la prossima, non voglio neanche vedere il seguito. Dopo l'orribile prova data nel terzo turno, avversario A4 contro Lorenz. Vediamo un po'. E4, E5. Vabbè, qua. Alfiere C4, alfiere C5, arrocco. Cavallo F6. Non è certamente sbagliata, però dimostra che il nero non conosce le sottighezze della posizione. Qua conviene fare D6 per darsi la possibilità a se stessi di giocare F5, prima o dopo. Comunque, non è mica sbagliata, eh. D3, va bene. Arrocco? Sì, sì, va bene. Alfiere E3. Nainz. Nainz, 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 nainz. Questa è una mossa che non va bene. Non tanto per la mossa che giocherà adesso Lorenz, quanto per il fatto che quell'alfiere viene a trovarsi male, perché prima o poi potrà essere attaccato con un cavallo G4, e quindi il bianco dovrà fare H3, indebolendo l'arrocco. Oppure dovrà cambiare l'alfiere nemico. Qua basta la semplice alfiere B6, e prima o poi il bianco dovrà cambiare in B6. Si prende di pedone A, sia per la colonna che per la torre, e si rinforza un pedone verso il centro. Comunque, Lorenz preferisce cambiare, che non è certo sbagliata, e crea un pedone terribilmente debole in E3, anche se aumenta il controllo sul centro nemico. D6. Io qua forse avrei fatto D5, subito subito, per cercare di indebolire subito le case scure rese deboli da questo precoce cambio. H3, scantolino, il bianco, cavallo B7. Vediamo che idea c'è dietro. Calo B2, C6, va bene. C3, un po' tarda. Donna B6, con attacco doppio. Donna E1, va bene. Donna per B2. Dice un vecchio detto che la donna non deve mai mangiare in B2. Ma qua il bianco sarà in grado di intrappolarla. Certo, il bianco fa cavallo B3. Cavallo B3. Per difendere il pedone C3, suppongo. Ma è una semplice donna A3. il bianco rimane col pedone in più e minaccia ancora B5. Non mi piace quello B3. Torre C1 semplice sarebbe stata meglio. Ma vediamo se c'è di meglio ancora adesso, perché se il nero non volesse fare donna A3, ma va subito a cercare di attaccare l'alfiere nemico e fa B5. Vediamo un po'. B5. Beh, perdere un pezzo sano sano ha poco senso. vediamo c'è un modo di catturare la donna in qualche modo. Torre F2, torre B1. C'è sempre donna A3. Ma il bianco ha perso un pezzo così? Torre B1. Donna A3. B. calo Bd2. Presa, presa. Donna A6. Presa. Calo G6. Per te sei, una sette, una treta e sei. Ha perso un pezzo. partita finita. Mamma mia ragazzi. Ma non si possono vedere queste cose in partita seria? Ma come si fa? Orrore. Comunque, andiamo a noi. Sul cavallo B3. Lorenz non mi vede B5. Io rimango senza parole. Vabbè, ricordiamoci che il ragazzo è un esordiente. Vediamo. E mi presa. E qua il bianco si esce la scienza. Cavallo per E5. Tattico. La ripresa impedisce anche donna A3. Tatticissimo. Ebbè, ma se io faccio donna A3 subito? Rimane un pezzo in presa. 3-3-6. 3-3-6. La pire dove va? Mettiamo donna A3 subito. Fiere B5. A6. E di nuovo mi perde il pezzo. Bene, quella pire è condannato. A questo punto bisogna capire perché non ha fatto donna A3. Cosa ha fatto lui? Lui se l'è calato. Presa. E mo? Donna C2 unica. E mo? Nianci al pedone D3. Eeeh. Interessante. Torre D1. Vediamo. Torre D1. Sembra la più semplice. donna per A2. Me lo calo. Che cosa c'è? Qua c'è il cavallo attaccato. Mettiamo cavallo C5. Cerca di coprire queste case. B6. Torre A1. Torre C2. Torre F2. Eeeh. Siamo e se deve giocare così. Allora, due torri per la donna e due pezzi per la torre. Ma è difficile giocare questa parità. Qui in torre D1. Mettiamola così dunque. Su donna C2. Che cosa ha giocato il bianco? Cavallo C5. Andiamo a vedere che è buona. Qua il bianco gli è venuto l'attacco tattico. Gli è partito il neurone tattico. Gli è partito. Cavallo C5 sembra veramente buona. C'è la minaccia torre F2. Qua è molto cazzuta. Molto 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 cazzuta che si fa qua. Come se l'è salvata questa partita Lorenz? Se se l'è salvata. non lo so. Così a occhio direi che torre F2. Devo mangiare in F2 e poi mangiarmi un pezzo. Quindi... Tanto vale che faccio B6. Torre F2. Presa. Presa. Viver C5. Rientriamo nella posizione di prima. Ma... Non è più tanto bella. Vediamo che ha fatto Lorenz. Ha fatto cavallo DE in D5. E a questo punto... Qua mi sa che il bianco potrebbe vincere. Torre C1. Donna per A2. Torre F2. Siamo di nuovo in prima questa volta però senza prenderci il pezzo. Aiaiaiaiai. Aiaiaiai. Qua il bianco si è trasformato in Super Saiyan. Attacco tattico. Ma l'ha fatta tutta questa fase. Vediamo. Dunque su cavallo D5 il bianco ha fatto E4. Ha perso il punto. La semplice donna per C3. E per D5. Presa. Presa. E Saba Capre Capoli. Cosa ha fatto il nero? Torre 8. E torre 8 di nuovo c'è torre C1. Eh, si sono un po' persi. Qua il bianco non giocando torre C1 a questo punto dà l'impressione che non ha capito niente né prima né dopo. Gli è avuto a colpo di culo tutta questa disposizione dei cavalli. Perché torre C1 rientra di nuovo nella variante di prima. Non può mangiare in C3. Comunque il bianco fa donna G3. E qua allora vuoi veramente perdere, caro mio. cavallo per C3 semplicemente perde. Minaccia cavallo E2. Invece Lorenz mi gioca cavallo H5. Vabbè, finché attacca la donna. Donne 1 di nuovo. E qua di nuovo donne per C3 e dovrebbe vincere. Invece fa B6. E di nuovo c'è la torre C1 per la terza volta. Non ci posso credere. Cioè, tutti e due non hanno visto torre C1, una cosa più semplice, avendo minuti e minuti a disposizione. Ma io rimango senza... Quello mi gioca di nuovo donna H4. Ha fatto donna C3, donna E1, donna H4. La cosa è il pendolo. E quello giustamente, finalmente, fa cavallo Df4. Che è una gran bella mossa. Ed è tutto finito ormai. Presa. 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 E' tutto finito. E' finita l'avventura del signor Bonaventura. Bella mossa. Donna per C3. Attacca e difende da F6. Mamma mia. Mamma mia. Basta. Non la voglio rivedere più. Ragazzi. Wow. Partita interessante. Questa l'ha giocata abbastanza bene, Lorenz. Cioè, non è vis... Al bianco gli è preso l'attacco di culo che si è ritrovato in una posizione tatticamente minimo per pareggio. La donna in B2... Vabbè, tu non la mi dispense di sapere che può rimanere ingabbiata. In effetti rimaneva ingabbiata, però... Il bianco non è stato in grado di tirarla fuori. Sì. Ma comunque... È giocato bene, ma... Bravo. Hai giocato davvero bene. Quinto e penultimo turno. Lorenz contro avversario 5. Vediamo un po'. E4, E6, D4, D5... Fino a qua. Ai, 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 ai. Qua ragazzi mio ti consiglio di studiare la teoria perché questa... Dà la parità al nero facilmente. Comunque, alfile D3, giusto. Alfile D6, cavallo F3... Mmm... Mmm... Come ho spiegato più volte qua, il bianco deve avere pazienza. Deve aspettare... Qua è una gara a chi tira fuori il cavallo di re per ultimo. Mettiamola così. Come ho detto in altri video, il cavallo di l'ho messo in posizione non speculare. La mostra migliore sarebbe stata una C3... o... o qualcos'altro. O magari cavallo E2 con l'idea di fare alfiere F4. Comunque, sul cavallo F3 il nero giustamente fa cavallo E7. Benissimo. C3, ok. Arrocco... Cavallo B2... Cavallo B2... No, no, no. Io avrei fatto arrocco più semplicemente. Perché quel cavallo non ha case. E ti chiude l'alfiere. Dove va l'alfiere? No, non trovo male che facevi l'alfiere G5 cercando di provocare un H6 o un F6 per indebolire la posizione. Lui fa un F6 preventiva di cui non capisco il senso. Completamente. Indebolisce la casa E6. Non lo capisco. Donna C2. Niente, niente. Queste mosse non sanno fa... Non sanno fa... Allora, il bianco dovrebbe fare questo, in teoria. Dovrebbe togliere la torre da 1. Mettere l'alfiere in B1 e la donna in D3 o in C2 e fare una batteria di questo tipo. Metterla così con la donna dietro l'alfiere non serve quasi a niente. Perché la donna, in pratica, controlla la stessa casa dell'alfiere. Diventa un altro alfiere. Così è poco attiva. Mettiamola così. Il nero fa F5. Beh, rimediando, diciamo, all'errore di prima. Comunque, cavallo E5 mi pare una mossa buona a questo punto. Almeno, i levi raccoppi gli alfieri. C5 va bene. F4 va bene. Cavallo B C6. Cavallo F3. Ok, tutto è giusto. Alfiere E6 va bene. No, aspetta. Qua c'è sempre... Cavallo G5 subito. Tu non l'hai fatta perché ancora non sai bene il gioco. Con l'alfiere E6, cavallo G5 va fatta istantaneamente. Perché se avesse già fatto prima Re H8, lui avrebbe messo l'alfiere in G8 e poi tu perdevi tempi. Ma così se fa cavallo G5 istantanea, il nero avrebbe voluto fare H6 prima di fare cavallo G5. Comunque, prima di fare l'alfiere E6. Alfiere E3. Certo, non è sbagliata, però cavallo G5 era meglio. D4. Bene il nero, va bene. Presa, presa. Per F2 va bene. Cavallo D5. Ok. Qua, donna D2 va bene. Cavallo Db4. Questa non mi piace tanto. Attacco su A2 è del tutto fittizio. Qua, quel pedone D4 può diventare una... un pedone dato, in pratica, perché non c'è più... è un pedone isolato, troppo avanzato. Quindi il cavallo era meglio se se ne stava dove stava. Non lo so, non mi piace anche questa mossa. Fede B5 va bene. Donna D5. Presa forzata. E qua la partita si è tatticizzata. Non so. Giustamente il nero ha dato uno scacco di cavallo. Però io l'avrei dato forse in D3. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Comunque cavallo C2. Re D1. Presa, presa. Cavallo per A1. E vabbè, ma qua... qua... come fa il nero a salvare il cavallo? Innanzitutto togliamo l'alfiere. Ok, Lorenz ha messo l'alfiere in A4, che non è buona. Direi. Qua, vediamo un po'. Alfiere B5. Cercando di levare case di uscita al cavallo. Se è alfiere per A2, mangiamo il cavallo, semplicemente. Quindi attacchiamo ancora l'alfiere, che se ne va giustamente in D3. A questo punto alfiere per A2, torre in A1, alfiere in D5. E si gioca questa bella partita in cui ci sono due pezzi per la torre. 3 e 2, 5. 3, 3, 6. Con chiaro vantaggio del bianco, direi a questo punto. Boh. Lui ha fatto alfiere A4, che potrebbe sembrare giusta a un occhio inesperto, ma qua c'è la semplice è B5, giustamente. E su un'eventuale mangiata, l'impiata di torre è mangiata in B8, quindi non va bene. Lui ha potuto giocare alfiere D1, che però impedisce adesso l'attacco della torre sul cavallo. Eh, questo è il problema. Ora alfiere per A2. E mo so cazzi. No, lui ha preso di cavallo, scusate, ha preso di cavallo. Torre Df in D8. Reine 3, va bene. Torre D7. Eh, scusate, scusate. In a moment, please. Ma la semplice alfiere F3 non vince. Alfiere F3. Non vince. E va alla torre. Torre D8. Torre per A1. Prese. presa. Presa. Due alfieri per una torre. Eh, scusate, non ho capito, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Alfiere F3. Non vince subito. Se fa calcio C2. Me lo calo. Boh. E sono impazziti tutte e due. Non capisco. Allora, alfiere Reine 3. Dunque, torre Df in D8. Reine 3 mi sembra la migliore. Va bene. Se giochiamo alfiere F3 subito, non c'è nessun attacco. Vabbè, Reine 3, va bene. Quindi a questo punto torre D7 è una porcata. E non l'ha vista nessuno dei due. Mamma mia, che livello basso. Mamma mia. Ma come è fatta a non vedere alfiere F3? E mi gioca invece alfiere H4 che non ci scoppa una mazza cosmica. Che cosa è questa cosa? Giustamente quello ha giocato torre C8. chiaro. Alfiere F3 troppo tardi. Qua anche la semplice cavallo C2. A questo punto vinceva per il nero. Cavallo B3. Cavallo F5. Re F8. Levando l'ultimo problema. Momento. Fermi tutti di nuovo. Non sto capendo più niente. Fermi. Un attimo. Scusate. Siamo a questo punto in cui... No, no, no. Fermi un attimo. Allora. Torniamo qua. Dunque, cavallo... Se fa il nero... Faceva cavallo C2 con scacco. Dobbiamo prendere? Sì. È presa. E qua il nero ha vinto. È giusto o no? Ve lo dico in palermitano. Ha vinto. Ha vinto. È evidente. Ma il nero invece mi fa cavallo B3. Ok. Giustamente Lorenz prende l'F5. E c'è la semplice minaccia di E6. Fatemi capire. Il bianco sta meglio anche adesso. C'è anche la minaccia di cavallo E7. Perché il ref8 mi pare una purcata. Perché c'è E6. E mo' che fa il nero? Dove va con la torre? Torre 8. E7. Scacco. Mi sono salto... Un attimo mi sto prendendo di palermitanità. Un attimo. Ve lo dico così. Proprio... Papale e papale. Picciotti miei, ma dove va il nero? C'è... Qualunque mossa c'è alfiere C6. Ma stiamo scherzando. Ha perso come un cane il nero qua. Non si scherza. Ref8. E6. E il nero perde come un cane. E lui non l'ha vista. Ma stiamo scherzando. Il nero non vede E6 e fa il ref8. E il bianco... No, non ci posso credere. Mi va a giocare cavallo D6. Per inchiudegli la colonna. Torre C2. E mo'? Alfiere G4. Che succede? Alfiere G4. Dove va la torre? Dove va? Mettiamo che va qua. Boh. Torre D1. E il bianco sta sempre bene. Come cazzo? Come hai fatto a non vincere questa partita? Perché io so che non l'hai vinta. Cioè... Hai mangiato in B5? Cavallo C5. Minaccia un matto stupido quanto una casa. E di nuovo. Bastava fare cavallo D4. Torre per B2. Bah. Posizione da giocare. Forse il nero c'è un leggero vantaggio. Posizione da giocare. Invece hai fatto a Fiacetti. Ti hai beccato Matt. No, non ci posso credere. Picciotti miei. Ti hai fatto dare il matto del gollonzo. Una partita che avevi stravinto 20 volte. Allucinante. Allucinante. Ma come si fa? Come si fa? A non vedere che ti dà il matto in una. Meno in Zeitnot. Ma come si fa? Partita vinta mille volte. Ma te lo dico in palermitano. Te lo dico. Ma stiamo scherzando. Te lo dico in palermitano. Ma che hai combinato? Mamma mia. Mamma mia. Allucinante. Cioè l'avversario ha visto meno cose di te. Ha avuto il culo di fare... Che si becca... No, io non rimango senza parole. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Eccoci qua. Ultimo turno. Lorenz contro l'avversario 6. Vediamo un po'. E4. Quattro. Tartfite. B5. Calette 6. Uh. Uh. La berlinese. Arrocco. Ma non la conosce nessuno. Ma io lo organizzco. Ma giocano a caso. Non ha fatto cavallo per E4. D6. Cose che devo vedere. Cose che devo vedere. Giustamente. Lorenz magari non conosce tutta la teoria precisa precisa. E ti gioca torre 1. Sa che nella spagnola si fanno queste mosse. Vabbè. Adesso torre 1 non andava giocata. Bastava la semplice D4. Cazzutamente. Vabbè. Andiamo avanti. Pd7. C3. Di nuovo gioca a memoria le mosse tipiche della spagnola. Pd7. D4. A6. Boh. Pire A4. Arrocco. Callo Bd2. Mmm. Non mi convince tanto. Perché poi... Nero potrebbe mangiare in D4. Fare B5. Vabbè. Con un callo B2. Torre 8. Tutti giocano le mosse a memoria. Vedi perché io dico. Ragazzi. Prendete i libri delle aperture. E buttateli. Vi fanno soltanto danno. Perché non pensate con la vostra testa. Nelle prime 20 mosse. E giocate la stessa cosa. Anche se con l'avversario cambia di poco. Non siete voi a giocare. E quando cominciate poi voi a giocare. Fate minchiate cosmiche. Dovete imparare a pensare fin dalla prima mossa. Buttate sti cavolo di libri di aperture. L'unica cosa a cui sono serviti. A far fare soldi a un po' di gente. Smettiamola. Vabbè. Calo F1. Alfiere F8. Qua per dire. D5. Da un semplice chiaro vantaggio al bianco. Facile. Senza pensarci. Invece lui gioca alfiere G5. Senza un perché. Calo B8. Tutte mosse. Giocate a memoria. Tutti i sistemi che hanno visto così. Da vari varianti della spagnola un po' misculate. F1. B3. F1. G4. E G4. Ok. F1. G4. Allora io dico. Ti fa alfiere G4. Cavale 3. Subito. Attacchi l'alfiere. Deve mangiare. Riprendi. Deve difendere questo alfiere. Che fa di nuovo alfiere E7. Farà cavallo BD7. Fino a qua è tutto forzato. Ok. Torre D1. Minacci semplicemente la presa qua. Semplice. Cosa fa? Cosa fa? Alfiere E7. Di nuovo. C'è cavallo F5. Maschia. Quindi. Alfiere E7 non va bene. Che cosa fa il Nel? H6. Ma potrebbe anche. Potresti anche mangiare. Oppure fare. No. Alfiere H4. Ecco. Ancora più sfudorata. Se lui cambia. Riprendi. E stai. Fantastico. Deve fare G5. Prima o poi. Per togliere tutta stammatassa. E se ora prende. Allora. Di cavallo non può prendere. Perché c'è il punto F7. Prende di torre. Tu puoi giocare semplicemente. Alfiere D5. Quasi quasi. Alfiere D5. Alfiere C2. Futtatine nel pedone. Qua sono le case chiare. Che sono dei buchi mostruosi. Alfiere C2. Ad esempio. Torre E8. H4. E spariamo tutto all'attacco. E hai partita fantastica. Invece. Alfiere G4. Lui ha voluto cambiare. Che non è neanche sbagliata. Attenzione. Però. Cavallo E3. Sviluppa più un pezzo. Presa. Non ha preso il nero. Fermi tutti. Io ho scontato certe cose. E invece no. Il nero ha preso di torre. Non ci posso credere. Bravo Lorenz. Che hai fatto cavallo per E5. Bravissimo. Presa. Presa. Aspetta. Qua. Non è detto. Che devi prendere in F7. Per forza. È comprensibile. Ma non è detto. La semplice torre di A. Per D1. Intanto il nero. Non può impedire. Cavallo per F7. Tu. Torre di A per D1. Può impedire. Cavallo per F7. No. E allora deve salvare la donna. In E7. Ad esempio. Cavallo per F7. Mi haci un semplice. No. Mangi. Cavallo per D6. Ti mangi tutte cose con lo scacco di scoperta. Prendiamo che faccia una mossa tipo. Cavallo B D7. Allora. Cavallo per D6. Re H8. Cavallo F7. Re G8. E mo... Torre per D7. Semplice. Donna per D7. E cavallo E5. Facile facile. Per dire. Qua con un po' di tempo si possono aggiungere questa donna. Non aveva fretta. Tanto lo scappo questo. Comunque. Tu hai voluto mangiare subito. Donna E7. E di nuovo. Torre di A per D1. E torniamo nella variante di prima. Invece è giocato cavallo H6. Ma perché? Re H8. Cavallo F7 di nuovo. Re G8. Di nuovo torre di A per D1. Ah. Hai fatto patta così. Non ci posso... Questa è una partita vinta. Ragazzo mio. È vinta questa partita. È che non sai come vincere. Ma è vinta. Ma almeno dai lo scacco mangiando il pedone di D6. Giusto per cambiare. No. Hai fatto patta così. Ma è regalato. Ma è regalato. Ma non ci posso credere. Pazzesco. Pazzesco. Cioè allora. Ritorniamo a pensarci. Dunque. La prima partita. L'hai giocata abbastanza bene. Poi è stata in posizione pari. Ed è fatto patta. Come primo turno ci può stare. La seconda partita. Mi sembra. Che l'hai vinta. Ah sì sì. Quello che poi si è fatto dare lo scacco in F6. Cose vergognose. Va bene. La terza partita. Hai messo prendere un pezzo in presa. Facendo alfiere G5. Contra quello che ha giocato la Filidor. Orribile. Quella l'hai giocata veramente male. Orribile. La quarta partita. La quarta partita. Ah. Quella in cui ti dovevano ingabbiare la donna. Dopo aver mangiato in B2. E alla fine sei riuscito a... Cioè lui è riuscito dal culo veramente. Con il fatto che ti poteva ingabbiare la donna. Ma alla fine non ci ha capito niente. E hai vinto con merito. Bravo. La quinta partita stravinta per te. Non so più quante volte. E gliel'hai ti sei fatto dare il matto in una. Io rimango basito. E questa partita è un'altra partita vinta. E gli hai dato la patta per ripetizione. Allora. Ragazzo mio. Tuo primo torneo. Intanto ti faccio i complimenti. Perché hai giocato... Ma minimo da seconda nazione. Ma proprio a buttarla a terra. Quasi quasi da prima scarsa. Hai giocato. Ma hai regalato l'inferno. Con un po' più di fiducia in te stesso. Un po' più di coraggio. Un po' più di spacchiusaggine. Come dicono a Siracusa. Qua altri due punti li vincevi facili facili. Con un po' più di esperienza. Ma potevi vincere tranquillamente le ultime due partite. Con un po' più di calma. Di tranquillità. Cioè. Veramente. Hai giocato. Bene. Per essere una seconda. Se pensiamo che sei un esordiente. Cioè. Ti dovrei portare in trionfo per tutta Siracusa. Bravo. 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 E hai regalato l'inferno. Cioè. Cioè. Manca a dirlo che devi continuare. Cioè. Tu. Non voglio scherzare. Tutti sanno quanto sono abbastanza. Crudo nelle mie opinioni. Ma se continui a giocare così. Soltanto un po' più di fiducia in te stesso. Un po' più di studio su certe posizioni. Sei ancora giovane. Ma il titolo di candidato io te lo vedo dentro un anno e mezzo. Se giochi. Se fai tornei. Se non sei troppo scantato. Tu candidato ci arrivi tranquillo. Con un minimo di studio. Continua così perché il talento c'è. E hai giocato veramente bene. Ti faccio le mie congratulazioni. Senza scherzare. Bravo.